Ciao a tutti, io sono Amon di Bit in Bit e siamo ancora qui su Signal. Oggi andiamo a vedere come possiamo disabilitare gli indicatori di scrittura. Avete visto che su Signal, quando siete in una conversazione e l'altra persona vi sta scrivendo, vi appare un riquadro con tre puntini che si animano e che si muovono. Dal momento che noi iniziamo a scrivere, compare questo indicatore e finché noi scriviamo rimane, nel momento in cui ci fermiamo, dopo tre secondi, sparisce. Magari ci dà fastidio vederlo o ci dà fastidio sapere che gli altri lo vedano. Per disattivarlo non dobbiamo fare altro che andare nella Home. In alto a destra selezioniamo la voce Impostazioni, selezioniamo terza voce che dice Privacy, scendiamo nella sezione Comunicazione e come vedete abbiamo la funzione Indicatore di scrittura. Toccando qua sopra la disabilitiamo e come leggiamo qua non saremo più in grado di vedere quando gli altri utenti stanno digitando. Non solo, funziona anche viceversa, per cui gli altri non vedranno quando noi stiamo digitando. Andiamo subito a fare un test e scriviamo qualcosa. Vedete che nella sua conversazione non appare niente. Una volta inviato il messaggio gli arriva direttamente, senza che gli appaia che noi stiamo digitando. E viceversa, quando Mario Rossi sta digitando, sul nostro cellulare non appare niente. Spero che questo video vi sia stato utile. Se avete ulteriori domande non dovete fare altro che scriverci nei commenti e cercheremo di rispondervi il prima possibile. Iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati con i nostri ultimi video e ci vediamo alla prossima. Ciao!